Ciao a tutti gli amici di Cineafoniaci.com Dopo il Flash 2 proviamo oggi il suo fratello maggiore, ovvero il Flash Plus 2 Uno smartphone sempre prodotto da Alcatel, ovvero da TCL Anche se come vedete in questa elegante scatola nera con il logo color oro Non appare da nessuna parte il logo TCL né tantomeni di Alcatel Appunto perché Flash è distribuito da TCL con questo nuovo brand Un po' come può essere magari Honor per Huawei Uno smartphone che si colloca su una fascia media del mercato Dove ha sicuramente tanti concorrenti ma che oltre ad avere delle buone caratteristiche Caratteristiche che andiamo a vedere in sovraimpressione Ha anche qualche cosa in particolare che per alcuni potrebbe far la differenza Magari e far ricadere proprio su questo smartphone la scelta Dotati della stessa CPU, ovvero della CPU Mediatek Helio P10 Infatti abbiamo già visto ad esempio l'Umi Super, l'Ulephone Future o l'Ule Meizu M3 Note Il prezzo di questo Flash Plus 2 è di 160-170€ per la versione da 3GB di RAM E 32GB di storage interno che andiamo a vedere oggi Quindi anche come prezzo siamo allineati con gli smartphone che ho appena citato Noi l'abbiamo preso in un Flash Sale su MyFox Ma nell'articolo completo troverete anche i prezzi degli altri negozi In modo da lasciarvi massima libertà di scelta Prima di vedere lo smartphone andiamo a vedere un attimo cosa vi arriva nella confezione Abbiamo un'abbondante manualistica con anche questa card Ci dà l'indirizzo della Community Flash Poi abbiamo un caricabatterie che non è in standard Mediatek Pump Express Ma è un caricabatterie che eroga 9V a 2A Carica rapida quindi gestita da un chipset della Texas Instruments In mezz'ora si arriva al 48% In un'ora all'84% Quindi carica rapida è perfettamente funzionante Poi abbiamo solamente un cavetto micro USB standard Ed eccolo qua, design sicuramente molto classico Devo dire a me non piace particolarmente Forse anche un po' anonimo come design Anche se è ben realizzato Tutto in alluminio questa parte Vedete con queste eleganti striature Sono in plastica invece la parte superiore ed inferiore Qui abbiamo lo speaker Qui abbiamo la fotocamera con il flash con doppio LED Sulla parte superiore abbiamo il jack per le cuffie Il microfono per la soppressione del rumore Sulla parte inferiore è presa micro USB Microfono principale Qui abbiamo tasto accensione e tasti volume Veramente l'ho trovato molto scomoda questa disposizione Con il tasto accensione posto qua in alto Veramente avrei preferito questa posizione Molto più comoda come l'hanno quasi tutti gli altri smartphone La gran maggior parte degli smartphone Non abbiamo come vedete nessuno slot per inserire le SIM Perché la back cover è removibile Anzi la andiamo subito a levare Abbastanza difficoltosa la rimozione Soprattutto le prime volte Vediamo se ci riusciamo E qui vi diamo subito una delle caratteristiche che vi dicevo Perché abbiamo uno slot per una nano SIM Uno slot per una micro SIM Ed uno slot per la micro SD Quindi abbiamo tre slot separati Non abbiamo lo slot condiviso Quindi sicuramente cosa positiva a questa Qui abbiamo una batteria da 3000 mAh Vedete non è rimovibile Ma poi alla fine levando queste viti Non dovrebbe poi essere tanto difficile andarla a sostituire Una batteria che è una buona batteria Perché sappiamo tra l'altro che l'Helio P10 non è una CPU che consuma molto Quindi si chiude tranquillamente la giornata Anche perché abbiamo Android 6.0 a gestire i consumi Con Geekbench abbiamo ottenuto 6 ore e 18 minuti di test continuo Quindi batteria non enorme ma funzionale Unico appunto ho notato che anche in stand-by Se non utilizzato consuma comunque lo stesso Quindi se lo utilizzate molto o no Comunque si chiude la giornata intorno al 25% 30% poi ovviamente dipende molto dall'utilizzo che ne è fatto Comunque diciamo una discreta durata Insomma la giornata si chiude tranquillamente Lo andiamo a richiudere Per sbloccare lo schermo potete utilizzare il doppio tappo Funzionano molto bene le gesture a schermo spento Oppure utilizzare il sensore di impronte integrato qua nel tasto centrale Un lettore delle impronte molto rapido, veloce, molto affidabile Se lo schermo è spento dovete andare anche a premere il tasto per far riconoscere le impronte Ma vedete anche in questo caso funziona perfettamente Un ottimo lettore delle impronte quindi anche ben gestito Tra l'altro a livello di sistema operativo Perché qui nelle impostazioni dell'impronta digitale Vedete abbiamo diverse opzioni Tra cui carina questa dell'accesso rapido all'applicazione Perché potete decidere un'applicazione diversa da lanciare A seconda del dito che utilizzate per sbloccare lo schermo Per esempio io ho associato al dito indice la calcolatrice Quindi se vado a sbloccare lo schermo Vedete parte automaticamente la calcolatrice Calcolatrice ha poco senso ovviamente Ma se associate magari il dial o la fotocamera Può essere comunque una funzione utile Abbiamo un display da 5,5 pollici Full HD che vedete ha dei bordi abbastanza pronunciati Abbastanza spessi Forse questo è anche il difetto maggiore del design Di questo Flash 2 Plus Le misure infatti un po' ne risentono Abbiamo 76,4 mm di larghezza Per 152 di altezza Anche se alla fine lo spessore non è elevatissimo Perché abbiamo 8,2 mm di spessore Soprattutto abbiamo un peso abbastanza contenuto Penso che andiamo come al solito a misurare Abbiamo un peso di 163 grammi Quindi per essere un 5,5 pollici Direi che è anche molto leggero Uno schermo che però al di là dell'aspetto dei bordi Ha un ottimo pannello Andiamo a vedere le nostre immagini di test Ma veramente ben calibrato a livello di colori Ottimo anche per quanto riguarda gli angoli di visualizzazione E mi ha sorpreso particolarmente Tra l'altro per i livelli del nero Veramente guardate che bel nero Sembra quasi un AMOLED Veramente molto molto bello questo pannello Soprattutto ecco il livello del nero Veramente notevole Tra l'altro un pannello con un touch A 5 tocchi sensibile, preciso Niente da dire anche sotto questo aspetto Veramente anche il touch promosso sicuramente a pieni voti Qui sotto abbiamo dei tasti a sfioramento Che sono anche ben retroilluminati Ma aspetto negativo sono come vedete preassegnati Back sulla sinistra Task manager qua sulla destra Non è possibile invertirli a livello software Anche perché vedete L'illuminazione è proprio della loro funzione Io che sono abituato con il touch manager invece a sinistra Devo dire è stato abbastanza scomodo Peccato per questa scelta Se ci mettiamo come vi dicevo anche La posizione del tasto di accensione Direi è un po' stata data poca attenzione All'ergonomia di questo smartphone Oltre ai tasti retroilluminati Abbiamo anche un LED di notifica qua in alto Ve lo faccio vedere attaccando un attimo Il caricabatterie Eccolo qua è solamente bianco Ma è ben visibile E funziona perfettamente anche con app di terze parti Come Whatsapp Come vi dicevo abbiamo una ROM basata su Android 6.0 Non volevo farvi vedere tanto Eccolo qua la versione di Android Ma il fatto che qua vedete su norme e sicurezza Abbiamo tutta una parte dedicata alle certificazioni C'è quella ad esempio CE Ma abbiamo anche i valori del SAR Eccolo qua tutto in italiano Eccolo qua abbiamo i valori certificati Quindi molta attenzione alle certificazioni ufficiali Quindi cosa poi abbiamo visto in alcuni smartphone cinesi Invece è difficile trovare Quindi probabilmente è pensato anche proprio per il mercato europeo Quell'esperienza che ovviamente Alcatel ha già da anni su questo campo ROM che tra l'altro è già stata aggiornata con un OTA Ho ricevuto un aggiornamento anche piuttosto corposo Quindi a testimonianza appunto che c'è un supporto Fornito da TCL Alcatel Tramite però il sito ufficiale Flash Che è www.flash3c.com C'è anche un ampio forum Quindi una community Quindi sicuramente altro aspetto positivo È quello appunto del supporto software Le prestazioni generali per l'utilizzo di tutti i giorni sono buoni L'Helio P10 sappiamo che non essere una CPU da prestazione da record Però abbiamo un buon valore di 46.000 punti Praticamente siamo eccolo qua a livello di un Meizu M3 Note Anzi è leggermente superiore come benchmark Una CPU che comunque è buona per l'utilizzo di tutti i giorni Anche grazie ai 3 GB di RAM Ovviamente nessun problema a far girare Vedete anche tante applicazioni È possibile poi chiuderle tutte con un tap qua sulla scopa Una CPU che non è votata al gaming Ma come andiamo a vedere gira benissimo anche Real Racing Tra l'altro non scalda nulla questa CPU Quindi sempre molto attenta anche ai consumi Un altro aspetto positivo è quello dell'audio TCL ha montato un DAC dedicato Si tratta della KM4375 Quindi ottimo l'audio in cuffia Per chi vuole approfondire la cosa Sul sito della Saichi K6 Micro Devices Trovate tutte le caratteristiche di questo chip audio Risultato veramente buono per l'audio in cuffia Niente male però devo dire anche l'audio con lo speaker qua integrato Peccato solamente per la posizione qui sulla parte posteriore Andiamo un attimo a mettere il nostro brano di test Buono il volume Andiamo a misurare anche la potenza del suono Un suono abbastanza potente Soprattutto di buona qualità quello dello speaker Di buona qualità anche l'audio in capsula auricolare durante le chiamate E niente da dire per quanto riguarda la ricezione né del 3G, 4G Solo da segnalare la mancanza della banda B20 Quindi attenzione se avete wind per quanto riguarda il 4G E nella media anche il Wi-Fi Come lo vediamo nel solito confronto con uno Xiaomi Mi 5 Buona anche la dotazione dei sensori Andiamo ad aprire sensor box Sono tutti presenti Abbiamo anche il giroscopio, il sensore di orientamento La bussola, i sensori tutti perfettamente funzionanti Quindi ottima la dotazione anche dal punto di vista dei sensori Anche il giroscopio c'è e funziona Ottimo anche il GPS Andiamo a vederlo in uno screenshot Eccolo qua Precisione buona, ai buoni livelli E anche con Google Map Quindi non ho avuto nessun tipo di problema Passiamo a parlare della fotocamera Qui invece siamo sul livello medio Nel senso che abbiamo il solito sensore OmniVision da 13 megapixel L'Ominivision 13853 Che troviamo in molti smartphone di questa fascia Nota positiva, vedete È stata leggermente rivista l'interfaccia Mediatek Anche se non molto I risultati sono buoni Non ha nessun problema di messa a fuoco I risultati sono buoni Andiamo a vedere qualcuno a tutto schermo Con buona luminosità Non ha nessun tipo di problema Anzi fa anche delle ottime foto Ovviamente come sappiamo Questo sensore soffre un po' Negli ambienti poco luminosi Buono invece il flash Come lo vediamo nei soliti scatti Fatti al buio totale Vedete come ha illuminato bene la stanza buia Flash tra l'altro che è presente Anche qui sulla parte frontale Quindi carina anche questa funzionalità Quindi fotocamera nella media Ma vi rimando agli scatti che potete trovare nella recensione completa Linkata qui sotto per valutare l'effettiva qualità di questa fotocamera E siamo giunti alle conclusioni Il flash 2 plus è uno smartphone Devo dire equilibrato Ha una CPU octa-core L'Helio P10 Che non ha prestazioni estreme Ma comunque buone Ha comunque 3 GB di RAM Una buona dotazione di sensori Un ottimo audio Con il DAC dedicato La ricarica rapida Due slot per le SIM Più la microSD Il LED di notifica I tasti retroilluminati Un buon sensore delle impronte Tutte le certificazioni europee Insomma uno smartphone Dalla buona sostanza Magari non bellissimo esteticamente Non dà quella sensazione premium Che abbiamo visto in altri smartphone Ma la sostanza c'è tutta Quindi uno smartphone sicuramente da prendere in considerazione Sulla fascia di prezzo tra i 160 e i 170 euro Se avete domande su questo TCL Alias Alcatel Alias Flash 2 Plus Lasciate un messaggio qui sotto E l'appuntamento è come al solito Alla prossima videorecensione Ciao Alla prossima videorecensione Alla prossima videorecensione Alla prossima videorecensione